vedete siamo nel fagito c'erano anche dei paesani che l'ho visti pensavo che fossero altre persone non li volevo riprendere per driversi e niente però peggio che non abbiano trovato gli stanno facendo un po di giri ma non vorrei che mi seguono abbiamo proprio la croce vedete io vado ancora più giù e poi ci sentiamo dopo magari